Buonasera, ben ritrovati ancora una volta a Tu per Tu con in questo orario, in questa nuova collocazione alle ore 18, ma sempre in diretta, sempre per portare a casa vostra i professionisti, gli esperti, quelli che possono gratis rispondere a tutte le vostre domande, a tutte le vostre richieste. Stasera ho portato davvero un pezzo da 90 al nostro ingegner Cristian Moncada, Ciao, ben ritrovato ingegnere, che è qui per aiutarvi in tutte quelle questioni che riguardano bonus, ristrutturazioni, super bonus, tutte quelle cose che davvero necessitano l'aiuto di un esperto, perché? Perché sono occasioni da non perdere, ma devono essere gestite in maniera professionale per far cosa? Per risparmiare dei soldini. Detto ciò diamo il numero 366-118-8002 per i vostri whatsapp in diretta, il telefono è qua, e noi appunto risponderemo, Cristian, questa sera, non solo alle domande che arriveranno, ma soprattutto, essendo l'ultima puntata del ciclo, perché a maggio, lo ripetiamo, chiudiamo col ciclo di A2 per 2 con, ci rivedremo forse se vorrà l'editore a settembre, e vediamo a giugno poi di fare altri argomenti, sempre di grande attualità. Detto ciò, torniamo sul nostro sportello dei bonus, super bonus, parlando ancora una volta del super bonus, 110%, quello che è più allettante per i nostri telespettatori. Ci sono novità? La novità è che attualmente non ci sono novità. Ecco, questa è già una novità. Si sta parlando di introdurre delle semplificazioni, che probabilmente verranno presentate con il prossimo decreto, che è di imminente pubblicazione, si parla di una pubblicazione già nel mese di maggio, si è parlato tanto in questo periodo di una proroga, proroga che tarda ad arrivare, cioè tarda ad arrivare l'ufficialità di questa proroga. C'è l'impegno da parte del governo di mantenere fede, di prolungare questa maxi detrazione a tutto il 2023. Ma ad oggi manca ancora l'ufficialità, perché stanno ancora facendo un po' i conti. Quindi, se rimane così, il cantiere deve essere chiuso entro il 31-12-2022, è così? È così per i condomini, per i quali interventi al 30 giugno 2022 devono comunque aver raggiunto il 60% dei lavori. In questo caso scatta questa proroga di ulteriori sei mesi e quindi fino al 31-12. Ok, non è che ci si può svegliare il 30 giugno a partire con i lavori? No, assolutamente no. Stiamo parlando del 2022, naturalmente. Stiamo parlando del 2022. Ok, quindi l'anno prossimo. C'è ancora un anno. C'è ancora un anno. C'è ancora un anno per partire, per fare, speriamo, in queste semplificazioni. Il decreto semplificazioni, ecco, decreto semplificazioni sembra già un ossimoro. Però, insomma, speriamo che sia davvero così, perché le difficoltà che fino adesso si sono avute non sono state tanto nei lavori, ecco, nella volontà, ma in queste procedure davvero molto molto complesse, giusto? È così, è così, assolutamente. Sono interventi che, insomma, per quanto impegnativi non sono complessi, o perlomeno in media. Mediamente non lo sono. Quindi non manca la volontà. E ad oggi non mancano ancora le risorse, cosa che, peraltro, rischieremo di non avere prossimamente, quando poi davvero si partirà e si arriverà a pieno regime. Le difficoltà sono nella fase preliminare, quindi in tutte quelle che sono un po' questo districarsi attraverso queste disposizioni legislative, no? Dispositivi legislativi, normative, questa conformità da garantire, molto stringente. E tutta la burocrazia. Tutta la burocrazia, sì, esatto, esatto. Un po' articolata, quindi, insomma, questo rallenta, rallentato un po' tutti. E poi anche l'aprire la linea di credito con la banca, eccetera, eccetera. Insomma, altre problematiche che comunque speriamo trovino davvero una soluzione fluida. Allora, caro ingegnere, dobbiamo appunto rispondere a tutte quelle domande che sono rimaste un po' in evasi. Abbiamo ribadito le date, questo è molto importante. Ribadiamo anche quali sono gli interventi, perché c'è un po' di confusione, anche quando mi scrivono i telespettatori, fra Superbonus e Sismabonus. Sono la stessa cosa? Allora, in realtà il Superbonus, o meglio, con Superbonus, intendiamo sia il Sismabonus, sia l'Ecobonus. Ok. Entrambi 110, no? Perché il Superbonus è noto come Superbonus 110, proprio perché questa detrazione è in aliquota maggiorata, perché non dimentichiamo che nasce come detrazione IRPEF, in aliquota maggiorata al 110% in 5 quote annuali, detraibili in 5 quote annuali. Poi, chiaramente, con l'introduzione della cessione di questo credito, diciamo che tendenzialmente le attenzioni si sono spostate un po' in questa direzione. Certo. Quindi, con Sismabonus ci riferiamo a interventi che sono riconosciuti, i cui costi sono riconosciuti al 110% in ambito strutturale, quindi interventi di rinforzo strutturale, di miglioramento sismico, validi soprattutto anche in situazioni come demolizione e ricostruzione. Il Sismabonus è un po' più di ampio respiro, chiaramente è stringente dal punto di vista normativo in ambito strutturale, ma con più ampio respiro intendo che proprio la procedura lascia più margini. Più margini di intervento. L'intervento, esatto, sì. Mentre con Ecobonus, così concludo, con Ecobonus 110, intendiamo tutti gli interventi di riqualificazione energetica. E qui ci sono tutta una serie di requisiti da dover soddisfare e da verificare prima di poter procedere. Quindi quando si parla di questa analisi preliminare, questa analisi fattibilità, questo coinvolge soprattutto la verifica di questi requisiti. Allora, adesso poi ci concentreremo naturalmente soprattutto sull'Ecobonus, che sembra che sia quello che ha più attecchito. Non so se è perché prevede degli interventi più interessanti o perché da noi non è tanto zona sismica. Entrambi, o meglio, è chiaro che dal punto di vista tecnico, scientifico, è di tutto interesse anche l'ambito strutturale. Però è anche vero, probabilmente, che la sensibilità del cittadino sia più orientata, sia più spiccata nei confronti dell'Ecobonus, proprio perché questo territorio non è generalmente un territorio dove si sente questa problematica, anche se ragioniamo sempre in termini preventivi. Ed è un po' questa l'idea, la politica. La strada. Soprattutto a maggior ragione se pensiamo di dover intervenire su un edificio, ristrutturarlo, riorganizzarlo, riqualificarlo, senza adottare questa azione preventiva, che comunque sarebbe bene pensare per vedere. Anche perché ormai sulle nuove costruzioni certi requisiti sono obbligatori, giusto? Sono obbligatori, sono obbligatori, assolutamente, assolutamente sì. Sì, sì, certo, certo. Quindi quando, per esempio, un'impresa con la sua squadra, il suo architetto, il suo ingegnere, tutto, costruiscono un edificio da zero, l'ingegnere deve controllare dei parametri, vero? Vengono, certamente, vengono applicati già, vengono tenuti conto già in fase di progettazione, quindi il progetto tiene già conto di tutti questi requisiti, questi obblighi di legge, sia in ambito strutturale, quindi conformemente a quella che è la norma sismica, la normativa antisismica, e dal punto di vista energetico, perché comunque una nuova costruzione oggi è una costruzione che si avvicina o è addirittura in linea con quelli che sono gli NZEB, cioè gli edifici a energia quasi zero. Quindi diciamo che il costo di costruzione è aumentato proprio perché tecnologicamente un fabbricato deve comunque soddisfare dei requisiti minimi. Certo, e poi ricordatevi che chi più spende meno spende, quindi dopo risparmierebbe un riscaldamento in tante altre cose. Certo, così come è proprio l'obiettivo di tutto questo massiccio intervento che ci stiamo proponendo di fare in ambito di riqualificazione energetica. Allora, abbiamo detto che dopo ci tufferemo a bomba su questi ecobonus, perché sono quelli che maggiormente interessano, però ti faccio una domanda sul sisma bonus, perché soprattutto anche nel nostro territorio molto spesso vediamo degli edifici, delle costruzioni, delle case, diroccate, quando va bene fatte su nella rete, no? Potrebbe essere una spinta, una leva anche per mettere a posto questi edifici? Molto spesso sono lì abbandonati perché fanno parte di eredità di cui non interessa nessuno o perché ci vorrebbero più soldi a mettere a posto? Esatto, esatto, proprio perché l'impegno economico diventa magari anche importante, quindi ci si ritrova ad avere degli immobili che anche in fase di vendita, e quindi nell'ottica dell'acquirente, in fase di acquisto, insomma sono investimenti da valutare perché acquisti l'immobile, poi comunque devi investire una cifra importante per comunque sistemarlo, ristrutturarlo, riqualificarlo, no, la risposta è sì, proprio perché a maggior ragione per questi edifici o si valuta previa autorizzazione da parte del comune perché comunque si deve sempre esprimere, occorre sempre verificare se è possibile, ma la demolizione e ricostruzione magari di questi fabbricati si presta molto proprio perché, sì esatto, perché oggettivamente altrimenti sono un pericolo, no? Sono un pericolo, sì, è chiaro, si può intervenire sicuramente anche su un edificio esistente ripristinandolo opportunamente, poi dipende dalle condizioni, però spesso davvero se ci riferiamo ai edifici tipo l'esempio che hai portato tu adesso, se ci sono i presupposti davvero avendo questa risorsa, questo beneficio fiscale a cui attingere diventa davvero interessante una demolizione e ricostruzione proprio perché pur configurandosi come ristrutturazione edilizia, però partiamo da zero, no? Quindi di fatto è una nuova costruzione. Certo. Chiaro, poi... Insomma è un'occasione anche questa da non sottovalutare, da sfruttare. Allora, adesso ti farò delle domande caro ingegnere, che magari tu mi direi, ma che cosa me lo chiedi a me? Chiedilo al commercialista. Però insomma, te lo chiedo, perché magari sai, talmente tante volte ti sei trovato in mezzo a queste pratiche che sono cose per te consuete. Allora, ci chiede un nostro telespettatore Carlo, se l'eco bonus può essere, sì, l'eco bonus, il super bonus, può essere affiancato ad altri bonus? La risposta è sì, sì. No, su questo sono preparato. Non lo so, mi paura, eh? Per un attimo ho temuto. No, è assolutamente compatibile con... Faccio un esempio. Un esempio? Allora, se contestualmente ad un intervento di riqualificazione energetica, quindi che prevede la posa del cappotto, la sostituzione del generatore di calore, la sostituzione dei serramenti, l'installazione... Anzi no, fermiamoci qua, perché già entriamo in un altro ambito. Ecco, questi interventi sono interventi che si configurano in... classico intervento in super bonus, no? Sì. Se contestualmente io all'interno della mia abitazione ne approfitto, ne approfitto pure, c'è l'esigenza di dover ristrutturare, fare una ristrutturazione interna, quindi opere interne, rifarsi il bagno, i rivestimenti... Ecco, tutte queste spese che non rientrano in super bonus, ma sono sempre comunque detraibili al 50% come classiche spese di ristrutturazione. Ok. Già che sono nei lavori, è la frase tipica, no? Esatto, esatto. Già che sono nei lavori. L'intervento non deve essere solo mirato a ciò che riguardano costi imputabili al super bonus. Cioè l'intervento può essere anche di più ampio respiro e si può beneficiare di altre detrazioni tipo questa, tipo quindi spese di ristrutturazione, piuttosto che, perché no, anche il bonus facciate ad esempio. Certo. Cioè vanno studiate un po' di combinazioni, quindi ecco, l'importante è che non ci siano sovrapposizioni. Ok, non è che due fatture non le puoi mettere in buona sostanza, non te le puoi far rimborsare due volte. Allora, questo è abbastanza, eh, cari telespettatori, infatti bravi. C'è un'altra cosa che ti volevo chiedere, ribadiamo, allora, il bonus ristrutturazione, per le ristrutturazioni interne, eccetera, è rimasto al 50%. Quello è rimasto al 50%. E quello non ce lo tocca nessuno. Poi c'è il 110%, il bonus facciate? Il bonus facciate... Quanto recuperiamo? Le spese sono detraibili al 90%. Beh, insomma, è interessante. Interessante, interessante. Ecco, teniamo anche presente che tutte le detrazioni, quindi non solo quelle in ambito super bonus, sono cedibili. Cioè questo credito è cedibile. Ok? Quindi se io sto cedendo il credito per dei costi che sono associati al super bonus e faccio delle opere interne, il caso di prima, cioè io anche questa quota parte la posso cedere. Ecco, questa è la grande differenza fra il bonus ristrutturazione fino all'anno scorso, era tuo, te lo dovevi tenere, te lo mandavi... Esatto, esatto. Adesso lo puoi cedere anche in questo caso alla... Molto diffusa, ad esempio, in maniera molto light, questa riqualificazione nell'ambito di quella che è la classica detrazione a cui siamo abituati in ambito risparmio energetico, quindi ecobonus classico, quindi non ecobonus 110, è che stiamo vedendo che tanti appartamenti, tante unità immobiliari stanno sostituendo, quindi i committenti stanno sostituendo la caldaia optando poi per, ad esempio, per lo sconto in fattura, perché poi non dimentichiamo che questo credito è cedibile o direttamente alla banca da parte del committente, quindi del beneficiario, o mediante sconto in fattura direttamente all'impresa che esegue i lavori. Ciò vuol dire che il vostro fornitore, la ditta, l'idraulico, il muratore, piuttosto che il serramentista, vi fanno già lo sconto in fattura del 50%, pagate la metà. Si può dire? Cioè pagano la metà? No, in questo caso pagano proprio la metà. Nel caso della caldaia, la caldaia, ad esempio, è detraibile al 50% se si sostituisce solo la caldaia, ma se associata a questa sostituzione, a questo intervento, si prevede anche un sistema di controllo evoluto, l'aliquota scatta al 65%. Che cos'è il controllo evoluto? Ad esempio, la possibilità di poter controllare l'impianto mediante dispositivi mobili. Ah, ok, accendo e spengo la calda. Esatto, è un sistema intelligente che va comunque a favore di risparmio energetico, perché io ottimizzo i consumi. Certo. Quindi sono sistemi evoluti che mi fanno scattare l'aliquota al 65% ed è una spesa comunque ulteriore perché chiaramente ha un costo che però io vado complessivamente a riconoscere economicamente pagando il 25%, no? Ottimo. Quindi diventa interessante. È interessante, sì. Allora, un'altra domanda, visto che hai parlato di cessione, il nostro telespettatore Mario ci fa una domanda su un altro tipo di cessione. Anche questa magari la chiediamo al commercialista o il nostro ingegnere è preparato? Anche su questo, anche se non è il suo terreno. Allora, posso cedere il credito a un familiare? A un convivente? Allora, il credito è cedibile più volte, in numero illimitato, anche a soggetti, a persone fisiche, ad altre persone fisiche. Ok, ma dobbiamo essere parenti? Io dico, io cedo al Moncada, al mio... Sì, sì, no, no, no. Non c'è un vincolo di parentela. Cioè, io e te non ci conosciamo, io ti cedo il mio credito e tu l'acquisti, no? Che meraviglia! Mi sembra il ce l'hai. Ce l'hai io? Viene libero. Esatto. Vediamo questa cosa, vediamo se poi si diffonderà. Vediamo, vediamo perché forse... Però c'è questa possibilità. Forse è un po' la problematica proprio anche in questo senso, che il decreto semplificazione potrebbe davvero aiutarci. Esatto, esatto. Allora, adesso passiamo alla domanda più tecnica, che secondo me sono quelle che ti piacciono di più. Mi ha fatto curiosità la domanda di Massimo, non ci avevo mai pensato. Dice, e confermamelo, che i pannelli fotovoltaici sono uno degli interventi trainati del 110, del suo... Esattamente. È così? È così. È un intervento trainato sia dall'eco bonus sia dal sisma bonus. Cioè, se io intervengo in termini di sisma bonus, posso anche installare l'impianto fotovoltaico, quindi beneficiando del 110, quindi in sostanza trovandomelo gratuito. Certo. Perché poi vediamo che, essendoci un massimale per ogni intervento, il massimale dedicato per il fotovoltaico, insomma, mediamente direi, ragionevolmente, copre le spese del fotovoltaico. Quindi, è un classico intervento trainato fino a se stesso, con un proprio massimale, e viene trainato, appunto, dicevamo, sia dal sisma bonus, sia dall'eco bonus. Ecco, perché vi ricordiamo che in questi due super bonus ci sono degli interventi obbligatori per accedere, che si chiamano trainanti, e poi altri interventi che potete mettere a corollario che sono i trainati. Non c'è un limite. C'è un massimale che posso spendere, però non c'è un limite di interventi che posso attaccarci agli trainati. No, 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 no. L'importante è che questa combinazione sia compatibile, esatto. Ok, che non superi la cifra di? Qualsiasi cifra? No, allora, se parliamo di cifre dobbiamo riferirci proprio ai singoli interventi. Ah, ok. Allora, quindi, abbiamo detto, ripetiamolo, l'abbiamo già detto tante volte, comunque, per quanto riguarda, partiamo dal sisma bonus. Il sisma bonus, per il sisma bonus, beh, il trainante è evidente, cioè, il trainante è l'intervento strutturale, certo. Quindi, il trainante o si fa o non si fa, no? E, a seguire, dicevamo, può essere trainato il fotovoltaico. Per quanto riguarda l'eco bonus, ecco qui, parlando di riqualificazione energetica, di risparmio energetico, gli interventi sono tanti. Quindi, due, due di questi sono trainanti e sono l'isolamento dell'involucro opaco, il volgare cappotto, il volgare cappotto, ma anche il solaio verso il sottotetto, o la copertura se non c'è il solaio verso un sottotetto, o il solaio contro terra, o il solaio verso un ambiente non riscaldato, cioè, l'involucro opaco, c'è la nostra, il fabbricato visto come una scatola, sia che sia esso un monofamiliare, perché poi bisogna distinguere l'edificio, però, sia che sia una monofamiliare, sia che sia un condominio, noi dobbiamo vedere l'intero involucro, sempre, ok? Quindi, il trainante, un trainante è questo, il secondo trainante è la sostituzione del generatore di calore, quindi, in questo caso però, nella monofamiliare, va da sé, va da sé, nel condominio deve essere la centrale termica, ok, perché deve essere l'impianto, quindi dovrebbe essere, in questo caso, si presume, stiamo prendendo in considerazione l'ipotesi che sia centralizzato, perché se no, ognuno va da sé, se no, ognuno va da sé, quello ognuno va da sé significa che ci si sta muovendo nell'ambito della singola proprietà privata, no? Quindi quello è il trainato, ok, quindi, i trainanti, di questi due trainanti bisogna garantirne almeno uno, quindi nel caso, poi, vedi, le combinazioni sono tante, però, nel caso del condominio termoautonomo, con le unità immobiliari termoautonome, è chiaro che il trainante è uno, è l'isolamento del cappotto, cioè dell'involucro, no? Certo. Nel caso in cui sia, invece, centralizzato, in alternativa, si potrebbe optare per la sostituzione della centrale termica, o se no, entrambe, come spesso si sta facendo. Certo. Ok. Beh, insomma, sarebbe, una combinazione potrebbe essere per gli appartamenti con le singole caldaie, quello più, a questo punto, uno si può mettere il fotovoltaico subito. Sì, esatto, quindi tutti gli altri interventi, cioè quindi garantendo il trainante, tutti gli altri interventi in ecobonus, di ecobonus classico, ok? Quindi tutti quelli a cui siamo abituati, a cui eravamo abituati prima del 110, tutti questi diventano trainati. Ok. Ok? Quindi la sostituzione dei serramenti, piuttosto che la sostituzione dello scaldabagno, del climatizzatore, la sostituzione della caldaia nel caso di termo autonomo in un periodo familiare, no? E il fotovoltaico stesso sono tutti interventi trainati. Bene, allora, rimaniamo sul fotovoltaico perché la domanda è questa qui che ci fa il nostro telespettatore. Io ho una villetta per intervento trainante vorrei fare il fotovoltaico trainato, ok? Sostituisco la mia pompa di calore e la mia caldaia e poi vorrei mettere il fotovoltaico. Ah, ok, quindi si sostituisce come trainante il generatore di calore e poi trainato vorrei mettere il fotovoltaico. Sì. Ok, mi dice vale anche se lo installo su una pertinenza? Sì, assolutamente sì. Ah, è preparatissimo il nostro ingegnere. Sì, sì, sì. Adesso ci spieghi cosa è la pertinenza e cosa vuol dire? Ah, ecco, spiegiamo cosa è la pertinenza. Ma le pertinenze sono quelli immobili che sono collegati all'unità immobiliare e comunque fanno parte dell'unità immobiliare, no? Cioè tipicamente la pertinenza di una villetta può essere il box. Ah, ok. Ah, quindi uno dice non mi voglio rovinare il terrazzo. Lo installo sul garage. È fattibile. È fattibile. Meno male, dai, bella calda. Cosa ne pensi del fotovoltaico? Ah, io penso che sia ormai debba ormai diventare in parte lo è già ma lo diventerà ancora di più prossimamente una realtà una realtà quotidiana cioè il fatto pensiamo che il fatto di produrre produrre energia elettrica disponibile al consumo cioè chiaramente cioè è un mancato cioè è un costo che io non sto sostenendo no? Uno dice perché no? Cosa stai aspettando? Perché no? Anche perché associando poi al fotovoltaico ecco non dimentichiamo che con l'installazione del fotovoltaico noi possiamo associare anche l'installazione degli accumuli delle batterie di accumulo Certo La tecnologia si è evoluta molto negli ultimi anni quindi batterie con un ingombro in grosso modo pari a quello di un armadio un armadietto noi riusciamo ad accumulare anche tranquillamente qualche decina di kilowattora Caspita! Quindi questo vuol dire che se durante il giorno io produco energia ma non sono a casa o non sto consumando non sto consumando molto ok prima di iniettare questa energia gratuitamente in rete io me la metto da parte di sera di sera avrò una certa autonomia fin tanto che la batteria me lo consente ma è comunque energia che io comunque sto producendo gratuitamente Certo ecco pensate quante belle cose quando come potrebbe essere molto più green la nostra vita a partire dalle nostre case veramente iniziamo a farci un pensiero allora pubblicità per noi poi torniamo con l'ingegnere torniamo in diretta con il nostro ingegnere Cristian Moncada che davvero nel corso di questi mesi qui a Tu per Tu con non ha cercato di farci familiarizzare con dei termini che per noi insomma magari non erano di tutti i giorni ma con i quali abbiamo imparato a convivere a fare conoscenza perché perché sono entrati proprio dentro casa nostra è proprio il caso di dirlo tramite questi ecobonus superbonus sismabonus insomma dove c'è da risparmiare cerchiamo di farlo attraverso queste manovre messe in campo dal governo per far muovere appunto l'economia erano un po' di anni e sono tanti anni che ci sono questi bonus ristrutturazioni ecco che hanno cercato di metterli a disposizione anche di chi magari non ha tanti soldini non ha tanta disponibilità perché tu per primo lo sai che quando ci si mette in ballo con i lavori si spendono tanti soldi e forse è proprio quello che frena un po' le persone ecco quindi veramente qua si parla di un risparmio del 50% del 110% del 70% del 65% e sono tutti soldi che non dobbiamo tirar fuori quindi veramente è un risparmio concreto è vero o no? è vero tu cioè da professionista da esperto li consigli questi consigli di approfittarne sicuramente no assolutamente sono opportunità sicuramente da accogliere certo assolutamente poi vedi c'è chi non ha i soldini poi c'è Carmine invece che dice che è proprietario di un appartamento in condominio nella città in cui vive e ha una villetta a schiera al mare e una in montagna capito? vuole procedere a effettuare alcuni lavori usufruendo del super bonus può farlo per tutte e tre? beh allora nell'appartamento in cui vive essendo un appartamento quindi all'interno di un plurifamiliare sempre il solito discorso cioè ad oggi intervenire in assetto di super bonus significa intervenire a livello condominiale proprio perché il trainante in un plurifamiliare è un intervento che viene realizzato sulle parti comuni certo ok poi ovviamente potrà attingere a tutti i trainati che accennavamo prima che le incavamo prima quindi a beneficio diretto per il suo appartamento certo dico ad oggi perché chiaramente le voci di corridoio vogliono che in questo prossimo decreto semplificazioni si possa intervenire anche nell'ambito del singolo appartamento però vabbè ma questo cambierebbe un po' le cose ad oggi non vedrei neanche una compatibilità un po' con le regole che sono state introdotte quindi vediamo ecco sono delle ipotesi di cui si sente parlare ma sul fatto di intervenire su tre per quanto riguarda invece le altre due allora fermo restando che il la singola persona fisica può intervenire sul super bonus cioè quindi può attingere può beneficiare il super bonus per un massimo di due volte cioè su due unità immobiliari ok ok però ci sono tutta una serie di varianti che renderebbero comunque compatibile la cosa cioè seppur non debba essere titolare super bonus la singola persona per più unità immobiliari però è anche vero che questa titolarità cioè il beneficiario può essere anche un familiare fino al secondo grado di parentela ottimo ok può essere anche il il locatore cioè colui il quale ha un titolo l'inquilino colui il quale ha un titolo e che quindi occupa l'unità immobiliare con con mediante un contratto un contratto che chiaramente deve essere regolarmente registrato ovviamente però ecco non deve essere necessariamente lui quindi si può intervenire su quell'unità la singola persona però beneficia per un massimo di due volte questo nella globalità dell'intervento scusa nella globalità dell'intervento perché perché sul plurifamiliare in realtà non c'è un limite per gli interventi sulle parti comuni ok quindi ipotesi se tu sei proprietaria di tre appartamenti in un condominio partecipi per tre volte secondo la tua quota millesimale per i costi no sull'interventi nelle parti comuni certo però poi attinge ai trainati solo per due per due chiaro per il terzo interverrà nel caso chi l'inquilino mi faccio un inquilino ce lo metto dentro ce lo metti dentro e gli fai fare il suo tac allora Federica ci chiede questa cosa lei ha una villettina singola si vorrebbe fare la sostituzione della caldaia ai serramenti ecco un altro classico intervento che si fa è questo qua e come abbiamo capito ormai abbiamo capito anche noi rientra nel 110 però ha bisogno dell'ape allora si rientra nel 110 previa verifica dei requisiti sono i requisiti sono svariati il più importante è il fatto di garantire un doppio passaggio di classe energetica questo è molto importante questo va documentato è fondamentale perché non è che a voi vi basta la fattura del serramentista e del termoidraulico e che dice ecco qua 110% l'ha data l'agenzia delle entrate così no ci vuole ma cos'è questo ape attestato di prestazione energetica cioè con l'ape andiamo a individuare mediante una classe energetica quello che è quella che è la prestazione energetica dell'edificio ok allo stato attuale cioè prima dell'intervento quindi si fa uno screening a tutti gli effetti di quello che è lo stato attuale dell'immobile e quindi lo si contestualizza lo si colloca mediante attraverso questo indice energetico una tabella una tabella la classica certificazione energetica ok vista in maniera con una leggera con qualche variante però ricorda molto la classica certificazione energetica ah sì perché per non farci mancare niente a livello di complicazioni non è la classica tabella a cui siamo abituati no assolutamente no è un'ape cosiddetta convenzionale quindi ecco questo è importante dirlo non fatevi prendere dall'inganno se dice no io sono già in classe A sono già in classe B comunque è meglio fare una verifica esatto esatto il fatto di essere già in possesso di una certificazione diciamo certificazione energetica sarebbe ape il fatto di essere in possesso di un attestato di prestazione energetica sì ok è indicativo è indicativo ma il tecnico che prende in carico l'intervento deve comunque innanzitutto verificare che sia così e lo può fare solo dopo una diagnosi in realtà diciamo diagnosi energetica attraverso una una fattibilità cioè andando a a calcolarlo cioè andiamo a calcolarlo mica ingegnere per niente nel vero senso della parola ma senti quando tu tu fai l'app è giusto tu fai questa prestazione benissimo vai con degli strumenti come fai a calcolare cioè ci sono degli strumenti tipo ritorno al futuro che dicono ah qua è migliorata la classe energia l'aria fa più caldo fa più fresco no beh allora ci sono anche degli strumenti sofisticati ci si può si possono utilizzare delle termocamere ma questo lo si fa in situazioni più come dire più più situazioni più severe dove più complesse più complesse dove è giustificata questa indagine sì altrimenti ci si basa occorre fare un rilievo quindi lo strumento sicuramente è lo strumento per prendere le misure ok perché comunque la bindella la bindella o il laser perché deve essere ricostruita un po' tutta la geometria dell'immobile quindi va fatto un rilievo un rilievo sia architettonico ma un rilievo proprio anche delle caratteristiche dell'abitazione di dispersione sì esatto esatto poi chiaramente andiamo a molte esperienze in base al periodo di edificazione dell'immobile cioè se l'immobile è recente abbiamo anche delle documentazioni di progetto a disposizione insomma non ce lo vuole dire come lo fa è il segreto è il segreto e se ce lo dice cioè quanti anni hai studiato per farlo ingegnere insomma giustamente non ce lo vuole dire il calcolo però quello che interessa a noi caro ingegnere è questo se io mi affetto fido a un professionista e dico voglio fare perché poi i problemi della gente sono questi voglio fare caldaia e serramenti ingegnere faccio due due classi supero due classi l'ingegnere dipende l'ingegnere non può dire di sì ma se non mi metto neanche in ballo certo vieni a casa fai i tuoi rilievi ma dopo me lo dirai che sì è certo che dopo te lo dirò non è immediato occorre ovviamente lavorarci ci possiamo sbilanciare se chiaramente partiamo da un immobile comunque piuttosto datato come nella stragrande maggioranza dei casi prevediamo di fare tutti gli interventi possibili è evidente che sta solo nell'andarlo a documentare a quantificare ma l'obiettivo si raggiunge certo se invece io penso di sostituire la caldaia e i serramenti la doppia classe la garantiamo non è detto non è detto perché poi dipende sono tanti fattori è chiaro che è chiaro scusa ma è questo importante è infatti aumentiamo molto ma molto la possibilità di arrivare ad avere questo doppio salto nel momento in cui sostituiamo una caldaia vetusta cioè comunque datata e prevediamo una una soluzione ibrida perché ibrida perché alla caldaia a gas andiamo ad associare ad affiancare una pompa di calore elettrica e a questo punto sì con il fotovoltaico cioè la quindi la fonte rinnovabile va a spingere molto sulla pompa di calore e capite quindi questo doppio salto ti dà ti dà la spinta la spinta la spinta giusta allora facciamo così per rispondere a Federica Federica tutto dipende da dove parti quindi questi cioè chi è che non si deve imbarcare in questa impresa se uno ha un appartamento già efficiente già con i serramenti belli la caldaia dell'anno scorso e tutto non è che dice no adesso io per avere l'ultimo modello tutto gratis no non funziona così non è per questo che è nato diciamolo ingegnere prendite le tue responsabilità assumo le mie responsabilità dobbiamo dirlo che non è una roba no 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 assolutamente assolutamente allora è chiaro che non è che si debba necessariamente partire dalla classe G cioè di fatto sulla carta è previsto che se io fossi cioè non avesse addirittura la possibilità di fare un doppio salto perché sono già in classe elevata occorre perlomeno arrivare alla classe massima ok quindi sulla carta sì però è evidente che comunque comunque questi interventi specie se poi la committenza vuole perlomeno avere la tranquillità che incaricando un tecnico comunque poi questo possa avere un seguito evidente che allora partendo da diciamo dai mobili che comunque sono fortemente energivori vecchi, datati dove non c'è nessuna coibentazione nessun tipo di isolamento nessun tipo di insomma di 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 perstanza energetica questi requisiti certamente li raggiungiamo è certo allora facciamo forse c'è ancora tempo per un paio di domande ne voglio te ne voglio fare un paio che riguardano i condomini perché proprio anche con te nel corso di questi mesi abbiamo visto che sono molto molto interessati da tanti amministratori si stanno muovendo tanti condomini stanno chiedendo perché ancora non ci muoviamo insomma c'è un po' di di rumore intorno al condominio perché è molto spesso vetusto come dicevi tu perché ci possono essere degli interventi che possono beneficiare di questi super bonus che altrimenti sarebbero molto molto costosi uno quando li fa altrimenti no? cioè vanno veramente a intaccare tanto le tasche dei condomini allora e lì immaginiamo no? alle riunioni cosa non può succedere facciamo questo facciamo quello qual è la percentuale cioè la maggioranza assoluta relativa tre quarti un terzo tre per due sei no per interventi di questo tipo la quota minima è stata ridotta quindi è necessario è necessario a livello assoluto che siano favorevoli cioè che ci sia il parere favorevole di almeno un terzo della quota millesimale complessiva e la maggioranza è molto poco eh sì è la maggioranza dei presenti all'assemblea ok di norma straordinaria convocata ad hoc per il super bonus quindi un terzo è molto bassa è molto bassa questo non significa che però raggiunto il terzo e la maggioranza dei presenti che magari possono essere anche non sono magari anche numerosi allora si parta si parta in modo decisamente ecco di gran carriera di gran carriera perché è chiaro che poi dopo noi iniziamo a lavorare e cosa succede che se c'è una una parte che non non vede di buon occhio questo questo intervento poi è poco collaborativa no quindi noi dobbiamo entrare in tutti gli appartamenti se questi non ci aprono è un bel problema diventa un po' problema no certo allora quello che ci sentiamo di consigliare è che ovviamente ci sia non dico l'unanimità ma almeno che l'aria che tira sia buona perché altrimenti diventa anche difficile lavorare per chi deve lavorare mi aspettano con la scopa mi prendono no devo dire che comunque è anche un piacere io vedo che c'è insomma sto notando che c'è proprio uno spirito di collaborazione c'è molta collaborazione che lo offrono il caffè ingegnere devo rifiutare altrimenti a fine giornata se ti fai tutto il condominio per i caffè dappertutto va bene allora facciamo un'ultima domanda veloce veloce ed è sulla cessione del credito nel condominio chi se ne occupa? cioè sia in tanti no? non è che prende la signora Maria e va in banca chi è che si occupa di questa pratica? allora per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni quindi a livello condominiale certo ok però quando poi scattano i trainati qua bisogna andare ognuno fa da sé ognuno può fare da sé può fare da sé però è chiaro che se si converge tutti quanti sul general contractor ok quindi sull'impresa certo che segue tutto l'intervento la cosa è chiaramente consigliata ma proprio per una migliore organizzazione una più facile gestione per coordinare i lavori stessi i tempi e poi perché comunque va stipulato un contratto per ogni condomino certo ok allora facciamo così secca risposta secca ci sono tantissime ditte adesso che offrono l'intervento chiave in mano che uno dice ah non mi devo preoccupare di niente con il condominio X dà tutto all'impresa ci pensa lui anche per il credito trainati trainanti tutto qua documentazione tutto c'è da fidarsi di queste situazioni cosa ha bisogno allora risposta secca è difficile se l'impresa è ben referenziata perché no cioè se è un'impresa che può fare un intervento di questo tipo significa che ha anche una certa forza ok quindi deve essere un'impresa che comunque è sul mercato da tempo bravo questo voleva sicuramente fidiamoci se è un'impresa forte sul mercato da tempo esatto e soprattutto facciamo i nostri controlli facciamo i nostri controlli e perché no affidiamoci magari anche a dei tecnici di fiducia perché poi l'impresa cioè non è che è tenuta a imporre i propri tecnici certo anzi di questi tempi l'impresa ricerca i tecnici quindi perché no non proporli noi certo cioè se il condominio ha già dei rapporti con dei tecnici l'amministratore lavora già con qualche tecnico o è entrato in contatto recentemente ha dei buoni rapporti con qualche tecnico a maggior ragione magari locale allora lasciamoci seguire dal tecnico di zona certo che ha un occhio di fiducia esatto allora grazie Cristina Moncata per questa avventura insieme grazie a te speriamo di ritrovarci presto e buon lavoro grazie grazie a voi tutti buon proseguimento con voi l'appuntamento è per domani sempre alle 18 ritroviamo il CAF grazie a tutti grazie a tutti